Guai giudiziari per il comune di Vibonati, la procura della Repubblica di Lago Negro ha accertato una serie di reati ambientali nel terreno utilizzato in passato per il deposito dei rifiuti solidi urbani. Sarebbero già due le persone indagate, ma il numero dei possibili responsabili degli illeciti potrebbe salire durante l'inchiesta che è tuttora in corso. L'intera area di 750 metri quadri è stata posta sotto sequestro nei giorni scorsi. Il provvedimento si è reso necessario, spiegano dalla Guardia Costiera di Palinuro che sta eseguendo le indagini, per prevenire e contrastare il perpetrarsi di illeciti di natura ambientale, ma anche per tutelare la pubblica incolumità, perché c'è il rischio che la frana in corso in quel terreno comunale possa estendersi. Gli uomini del capitano Amalia Mugavero hanno accertato la presenza di uno scarico diretto sul suolo di percolato, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e quindi abusivo, mentre a Valle della Frana è stata individuata un'altra fuoriuscita di percolato che si disperde nel canale sottostante, seguendo la pendenza del terreno. Accertate inoltre la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti urbani interrati, ma anche ferrosi e plastici. La spazzatura sepolta è venuta alla luce nel gennaio scorso, a seguito di una frana ancora in corso. Di qui la denuncia di un cittadino e l'avvio dell'inchiesta giudiziaria. Gli accertamenti disposti dalla Procura dovranno servire a chiarire la provenienza del percolato e quindi eventuali nuovi reati e, contemporaneamente, ad individuare i responsabili degli illeciti ambientali già accertati. Al vaglio degli inquirenti è anche la passata gestione dell'area, una vicenda sulla quale il gruppo di opposizione tiene alta la guardia fin dall'inizio dell'inchiesta. Nel mirino della minoranza anche gli atti amministrativi compiuti dal Comune per affidare quel terreno ad un privato per la realizzazione di un poligono di tiro. E proprio durante i lavori per la costruzione dell'impianto si sarebbe verificata la frana che ha fatto venire fuori i reati ambientali commessi in località vecchio nel Comune di Vibonati, un terreno sottostante l'attuale isola ecologica che già è stato oggetto di indagine da parte degli inquirenti proprio per verificare se ha a che fare con il percolato finito sotto inchiesta. Finora non è stato accertato alcun legame.